Salute ben trovati alla voce delle istituzioni oggi incontriamo Stefano Lorenzi che è il segretario della consulta veneta della proprietà collettiva grazie per essere qui grazie a voi iniziamo un po parlando di cosa si occupa la vostra associazione perché magari per i telespettatori che non hanno mai visto una sua intervista o comunque un'intervista che riguarda il bosco e queste cose non potrebbe non averlo in mente di cosa si occupa dunque la consulta veneta della proprietà collettiva consulta è un'associazione tra proprietà collettiva appunto tra le istituzioni che nel bellunese sono più note col nome di regole regole proprietà collettive comunioni familiari ce ne sono un po in tutto il veneto prevalentemente nella montagna bellunese e la consulta è attiva da circa 15 anni ed è un'associazione che riunisce tutte queste realtà per metterle in rete per una mutua assistenza un mutuo soccorso o comunque per uno scambio di informazioni e di creare una piccola rete per chi gestisce come appunto le realtà regolieri il territorio montano veniamo alla prima emergenza ahimè ci eravamo lasciati con il problema del vostrico ci ritroviamo con il problema del vostrico vostrico è un parassita che attacca i nostri boschi è un coleotero attacca prevalentemente l'abete rosso ed è facilmente visibile l'effetto di tutto questo proliferare di questo insetto sui nostri boschi quindi qui e lì in tutto il bellunese si vedono macchie di abeti secchi che si secco improvvisamente ed è causa appunto di questo di questo insetto delle larve di questo insetto che vengono deposte tra la corteccia e legno e che quindi rapidamente fanno morire la pianta non si può dare però una dimensione diciamo di superficie di boschi nella nostra provincia colpita da questo vostrico è difficile dare un numero di ettari per esempio perché il fenomeno avviene un po a macchia di leopardo ed è causato soprattutto dalle condizioni climatiche le condizioni di stress a cui è sottoposto il bosco pensiamo che alla fine del 2018 c'è stato la tempesta vaia che ha lasciato dei segni profondi magari qualcuno se l'è dimenticata ma nel bosco sono rimasti segni profondi le piante che non sono crollate o cadute a terra in quegli anni lì molte sono rimaste comunque stressate un po scosse alle radici si sono indebolite questo unito al fatto che dall'autunno più o meno dall'autunno dell'anno scorso tutto l'ultimo inverno e l'ultima estate c'è stata siccità nei nostri boschi e tra l'altro la regione veneto ha dato anche diciamo delle indicazioni di allarme e comunque di stato di emergenza perché adesso fortunatamente un po rientrato tutto questo calore e questa siccità e avendo avuto anche un'estate molto calda hanno stressato hanno indebolito di più queste piante dove c'è un indebolimento di una specie c'è un'altra specie che prolifera pertanto questi e questo bostrico che è un piccolo coleottero che è sempre stato presente nel bosco è presente ovunque come sono presenti le formiche altre e altre specie però dove c'è una situazione favorevole allo sviluppo della specie questa si si ampia e così è successo che questa questo tipo di insetto abbia proliferato così tanto da intaccare ancora di più i boschi delle nostre valli era una cosa prevista subito dopo vaia gli incontri che sono stati fatti dalle istituzioni e dagli esperti dalle università annunciavano già questo fenomeno che è già accaduto altre volte in varie parti d'europa dove c'è un fenomeno di stress o addirittura di di uragano comunque un danno molto consistente si innesta al bostrico due tre quattro anni dopo questo è quello che è successo quali sono le possibili soluzioni cosa si è fatto cosa si può fare cosa si sta facendo magari anche prendendo spunto da altri stati come abbiamo appena detto allora la la tecnica dunque prevenzione è molto difficile perché ci sono miliardi di insetti ovunque ed è difficile ci sono delle trappole che usano per contenere a livello locale le proliferare di questi animali sono trappole a feromoni per cui gli animali vengono attirati da questa trappole rimangono lì però sono sono palliattivi un po l'unica cosa per evitare il contagio sarebbe prendere a un livello a un livello non troppo avanzato queste piante secche toglierle insieme alle ramaglie portarle via e bruciare le cortecce la pianta può essere riutilizzata per esempio per legnano per la legna questo naturalmente se si riesce a recuperare si riescono a recuperare le piante nei luoghi dove sono e spesso sono i luoghi impervi per cui a volte si può fare a volte no quindi anche il costo per riuscire a fare questo tipo di lavoro è notevole con il rischio che portando la pianta da un luogo all'altro anche il solo trasporto rischia di lasciare a terra di nuovo larve o di nuovo di questi insetti che poi possono contagiare altrove è un fenomeno naturale che però poi ha effetti anche sul sui boschi e sui proprietari dei boschi che di boschi vivono e quindi è un danno che c'è al territorio visto dal nostro punto di vista se dovessimo continuare così quale sarà il futuro dei nostri boschi diciamo tra cent'anni il bosco è una è un ecosistema vivente e dinamico e comunque i fenomeni si ripetono e si alternano a seconda delle varie situazioni il vostrico come altri come altri dico predatori o comunque altri parassiti c'erano ci sono stati e ci saranno il bosco è in evoluzione per cui la natura alla fine è sempre perfetta nel suo nel suo corso vengono intaccati non le intaccate non le piante sane ma quelle già già un po più deboli d'altra parte l'evoluzione va a volte in contrasto con quello che noi vorremmo cioè un bosco sano un bosco dove gli alberi sono adatti al taglio per ricavarne legname da opera per ricavarne la legna anche noi dobbiamo renderci conto che siamo all'interno di un ecosistema che la natura segue delle logiche che non sono le nostre possiamo contenere questi fenomeni naturalmente dobbiamo farlo se vogliamo mantenere la l'assetto dei boschi che ci sono oggi ricordiamo che i boschi che abbiamo nel bellunesi o comunque sulle alpi non sono boschi vergini sono boschi che sono coltivati da secoli per cui il rapporto dell'uomo con il territorio c'è sempre stato e chiudiamo questo discorso sul bostrico parlando di questa curiosa scoperta che è stata effettuata insomma in questi anni che riguarda il dialogo in un certo senso tra le piante è stato scoperto negli anni recenti che le piante colpite da bostrico emettono particolari particolari sostanze particolari chiamiamoli ormoni non ho un termine più preciso per per dirlo alle altre piante vicine le quali si attrezzano per resistere meglio all'attacco parassitario qualora l'insetto arrivi fino a loro per cui nell'ambito di nuclei di piante la pianta intaccata comunica all'altra e alle altre piante d'intorno che si attrezzano per esempio formando resine magari più resistenti o più difficili da aggredire da parte di questi insetti per cui c'è uno scambio c'è un dialogo anche tra le piante ed è per questo che il fenomeno non è così esplosivo e a un certo punto si si ferma si contiene poi magari si rappresentano un'altra parte c'è più dialogo tra le piante che tra noi esseri e cambiamo fenomeno cambiamo problematica aumentano le mountain bike si diceva questo cosa comporta per il bosco e per i sentieri mountain bike sono un fenomeno turistico apprezzato praticato e soprattutto dal negli ultimi anni recenti dove c'è stato il boom delle biciclette elettriche delle i bikes è diventato una pratica accessibile anche a chi non è magari un atleta per cui con le biciclette elettriche tu comunque anche se non sei tanto allenato puoi farti dei bellissimi giri questo ha aumentato il numero di biciclette e il carico dei ciclisti sul territorio dove vanno le biciclette vanno sulle strade forestali vanno sui sulle carrarecce anche sui sentieri dove riescono e quindi con il tempo e con l'aumentato numero di questi di questi ciclisti e ci si sono e si sviluppano delle delle difficoltà di convivenza con gli escursionisti per chi va a piedi chi va in bicicletta a volte soprattutto in determinate zone cominciano a esserci delle così una difficoltà di convivenza da qui c'è una proposta che già è attiva tra l'altro in varie parti della provincia sì è un fenomeno che va benissimo per il nostro turismo è una cosa molto bella naturalmente quando i numeri crescono i numeri di persone crescono occorre regolamentare quindi le amministrazioni sia le amministrazioni delle regole che poi sono la maggior parte dei proprietari delle strade forestali amministrazioni comunali eccetera prima o poi dovranno trovare un sistema di regolamentazione di questa fruizione un aspetto interessante è che la mountain bike negli ultimi anni sia un po legata al discorso degli impianti di risalita nelle dolomiti ma anche a cortina per esempio negli ultimi anni sono stati fatti dei tracciati specifici per le mountain bike che in genere sono tracciati un po acrobatici un po impegnativi dove la seggiovia e l'atleta sale in seggiovia la seggiovia attrezzata per portare la bicicletta a monte e poi scende lungo questi percorsi dedicati percorsi che sono riservati al mountain bike le persone non ci possono camminare e quindi si comincia un po a regolamentare questa cosa è un vantaggio ed è molto bello anche soprattutto per chi per chi pratica questo tipo di attività ma è un vantaggio anche per le società di impianti di risalita che allungano la loro la loro stagione di attività d'inverno portano gli sciatori d'estate lavorano di più perché portano questi ciclisti per cui si è formato anche questo questo circolo virtuoso ecco e cambiamo argomento ha citato cortina parliamo del parco dolomiti d'ampezzo c'è una recente sentenza che interessa questa zona ce la vuole un po spiegare c'è stata una sentenza di quest'estate del tribunale superiore delle acque riguardante il progetto di una centrale idroelettrica che una società privata intendeva realizzare all'interno del parco delle dolomiti d'ampezzo nella valpadeon il progetto risale ad alcuni anni fa e interessa una sta torrentizia che è allo stato naturale c'è anche un bellissimo canyon che come parco noi valorizziamo attraverso una sentieristica dei passaggi particolari che era stato oggetto appunto di un progetto per realizzarci una centrale idroelettrica il parco si è opposto a questo perché il torrente avrebbe avuto un degrado dal punto di vista della naturalità se captato e utilizzato per scopi idroelettrici ci sono stati c'è stato un contenzioso che è durato alcuni anni alla fine quest'estate proprio il tribunale superiore delle acque ha dato ragione al parco nelle sue motivazioni e quindi l'impianto idroelettrico non verrà fatto siamo quasi in chiusura abbiamo tempo però di parlare di un altro argomento che è quello dei parcheggi torniamo in qualche modo a occuparci di turismo proprio dei turisti e degli escursionisti dedicati agli escursionisti della montagna sì l'estate diventa sempre più una stagione di frequentazione della montagna questo porta nelle zone alte quindi nelle zone dell'escursionismo tantissimi tantissimi visitatori tantissime auto è necessario visti i numeri e visti anche la necessità comunque di avere un territorio conservato e attrezzato all'uoppo il il fatto di avere dei parcheggi delle aree di sosta che siano adeguate ai punti di partenza dei vari della sintieristica e anche ben mantenute ea volte perché no messi a pagamento in molte parti delle alpi ci sono molti parcheggi a pagamento si sta riflettendo e si sta praticando poi nella valvis dende per esempio ormai da un paio di anni ma e ci saranno anche a cortina in altre zone dei parcheggi che verranno attrezzati messi a pagamento magari con qualche servizio per per l'escursionismo in questo modo si evita che ci siano auto parcheggiati ovunque se voi pensate ai passi dolomitici durante l'estate ci sono auto parcheggiate in tutti i piazzali e lungo le lungo i lati delle strade per cui rimettere ordine serve per la tutela dell'ambiente ma serve anche perché il turista sia accolto in modo in modo decoroso possa parcheggiare la sua auto tranquillamente poi frequentare le nostre aree ultimamente la montagna sembra quasi essere un po una moda diciamo per cui c'è stata una massiccia presenza dei turisti basta vedere l'estate scorsa o quella precedente ci sono delle problematiche serie diciamo legate a questa chiamiamola eccessiva presenza di turisti intendo per i boschi per la montagna si è sempre lo stesso discorso del numero quando quando c'è un eccesso di frequentazione c'è un eccesso diciamo un eccesso per per dire una quantità enorme di persone che frequentano la montagna emergono problemi sia di appunto di gestione di questa cosa sia che con l'elevato numero di persone aumentano anche i maleducati naturalmente quindi c'è una difficoltà nel mantenere in ordine i sentieri c'è un'usura maggiore e c'è un maggior numero di persone maleducate purtroppo che rovinano magari anche la giornata agli altri per cui è un fenomeno che da una parte va benissimo per il turismo perché la montagna è ampia e ospite può ospitare tantissime persone dall'altra è un fenomeno che va gestito e nelle amministrazioni locali parlo anche per esempio delle istituzioni regoliere è un problema ed è una questione che comunque va affrontata e risolta nel modo più più adeguato alle singole realtà territoriali su questo chiudiamo la nostra intervista siamo stati con stefano lorenzi della consulta veneta della proprietà collettiva grazie ancora grazie a voi grazie a voi da casa per averci seguito arrivederci ciao